Se lo vedo lo richiamo della Valle, diciamo qualcuno che riprende in aula. Va bene, la votazione, pregherei di non usare i telefonini, gentilmente, la votazione è chiusa. Presenti 386, votanti 321, astenuti 65, maggioranza 161, favorevoli 321, contrari nessuno, la Camera approva. Colleghi, sospendo a questo punto la seduta che riprenderà al termine della riunione del capigruppo, della conferenza dei presidenti di gruppo, che è in corso. La seduta è sospesa, suggerisco di non allontanarsi. Grazie. 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 Grazie.